Ciao ragazzi, qui per Normal Comics Benvenuti in questo nuovo video Oggi ragazzi continuiamo con le nostre challenge Sapete che stiamo facendo queste varie challenge E siamo a due punti per me Dove si muoiono per me? Sì, sì, siamo in pareggio E adesso ci stai raggiungendo Ragazzi, prendiamo tutti dal colletto? Un box da 150 bustine A soli 99,90 euro Mamma mia Ecco, pare che sto scherzando Però effettivamente ci sono 70 figurine gratis in questo box Quindi, effettivamente, conviene Dovremmo portare anche il deluxe in futuro Però per ora abbiamo un botto di figurine Allora, inizia Alessia? Dai Alessia, sì Allora, questa challenge andiamo a trovare il giocatore più alto, abbiamo detto Più alto, vamos Vediamo un po' Eh, penso chi sarà Penso Coulibaly, penso sicuramente i portieri in generale Ibra Iroic Allora, intanto il giocatore è la regina Il giocatore è il frosinone Tonali quant'è alto? Tonali un metro e 81 Non è male, non è male Vabbè Alto sì, ma ci sono dei più alti Come Pulgar, un metro e 87 Ma la cosa è bassi a Pulgar, sai? Eh, attenzione Maia della Samp Che abbiamo già trovato di recente Ti trovo Comunque, mi rincovi il Savic Il segnale portiere del Sorino È vero, è alto Sì, due metri Due metri Allora, tre giocatori della Ternana De Lofè, un e 77 Riberini Un e 70 Che è dell'83, tra l'altro Mamma, è rimuovini Tra l'altro, figo storica Bellissimo Single Un e 90 Eeeh Single 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 E Scudetto del Milan Quanto è alto Squirtel Milan? Squirtel Milan Sarà alto 20 centri No, vabbè Anche penso che trovo uno dei più alti E penso di sì Ma ci sarà più di un e 90 Ne sono sicuro No, c'è sicuramente ragazzi Ma già i portieri Sono già tutti un e 90 e passa Ecco, guarda Io trovo Moise Ken Che è un e 87 del 2000 No, io l'avevo fatto più basso Però lui Sì Oh, che cos'è? È un piccione No, cos'è? È una gallina, un'aquila È un'aquila, credo L'Avazio, cos'è? È la 6 Quindi è... Non è la Fiorentina Che è il Genoa Il Genoa Sì, sì, sì Molto carino È un piccione, scusate ragazzi Sì, è il Genoa Un e 90, pareggio Lico Giannis Mi pareggiamo Poi Vigna è un e 76 E la maglia del Genoa Mi pareggiato subito La manita Bella Mi vuole pareggiare Mi prenderò io questo terzo punto Sì, sì, vedremo Vedremo Stanno certi come lo prendo io Lico Giannis Sta arrivando Trema Allora Due giovani Poi Tre giocatori Perugia Vediamo se c'è qualcuno alto Qui, un metro e 90 Eh, ti piacerebbe Poi No, un metro e 80 Pussetto Oddio, si legge Un po' più un e 90 E vabbè Ma quanto è alto Scamacca? Un metro e 96 E vabbè che è una scala Mamma mia È così alto? È così alto sì Mamma mia E poi quattro scudetti E Matti non è un portiere No, infatti Ma pensa che quando lui colpisce di testa Si deve abbassare Madonna E mi sa che te la porti tu a casa Sta challenge Perché un e 96 È veramente tantissimo No, a partire di scherzi È veramente tantissima roba Abbiamo Luca Ranieri 1,86 Luiz Alberto 1,83 Mario Luiz Mario Luiz Un metro e tanta Voglia di crescere Bani 1,88 E Ghiglione 1,88 Mi avvicino Un metro e 90 Ma sicuramente Il metro e 96 È difficilissimo Sicuramente ragazzi Sicuramente Vado io Siamo secondi a pari punti Almeno vorrei arrivare secondo Proprio di distacco Su Gae Gae Manita Mi piacerebbe arrivare secondo Pareggiare 1,71 Politano Va bene 1,88 Tesman 1,89 Furlan Cioè Sono portiere 1,89 1,74 Di Marco E lo scudetto del Monza Niente Niente Effettivamente I portieri Non tutti Vanno oltre 1,90 Quindi si aggirano Tra 86 E 87 Fino a 90 Ma Scamacco 1,96 È una sculata pazzesca Cioè Veramente Mi sa strafortunata Credo sia Abbastanza difficile Da battere Sì Sono 6 Certo Svato Quanti atti 1,90 Magari 91 Ma no 96 No 96 Scamacco Non lo facevo così Ma io Lo facevo 1,90 Ma non lo ha detto così Mamma mia Mazzesca Allora Allenatore della Salernitana Poi Abbiamo Uno Che ha un 1,86 Avevo letto L'altro 1,96 Poi Perez 1,73 E' una 2,21 Quindi E quindi Vi supero Anche Vabbè L'hai iniziato Non è ancora detto Non è ancora detto Gollini Gollini Saltate Non gollini Scusami Sportillo Volevo dire I sportini Ci stanno Però Insomma Non lo so Vado io col mio Per ultimo pacchetto Con 3 giocatori Di Frosinone Giuricic Squara di Ludinese Squaretto del Parma E di Lorenzo Che non facevo così alto Ragazzi Io ho 87 Ma no Un altissimo Io me lo facevo Un 80 Proprio al massimo Invece Un molto alto Non un gigante Però Si scoprono Vari particolari Sulle altezze Dei calciatori Che a volte Si è vero Tu dici Vabbè Ti fai un'idea Però effettivamente Come ne parliamo L'altra volta Dice Correa Che è alto Tipo Quasi un metro e novanta Che non sembra No infatti Uno non se l'aspetta Ma pure in signe Cioè Altissimo in realtà Rispetto anche per i giocatori bassi Che spesso i più forti Messi Maradona Insomma Rispetto per i bassi Allora Giovinco Giovinco Il Papu Gomez Devo mettere Tre del Regina Tre del Monza 1,83 Pegolo Sbagliato challenge Un quartiere che non va sul metro e novanta No Ho sbagliato challenge Però avrei vinto quella dei vecchietti Eh si 1,87 Marchizza E 1,72 Solo Barella Ma lo facevo alto lui invece Sai perché? No Barella E' medio E' medio Me lo facevo Non lo so Alto tipo 1,90 Ah di meno No Il tifo sembrava più grande Proprio lui meno spettacolo Le telecamere che riprendono all'altezza uomo sono mezzaniere Allora No dai Non è così alto Abbiamo tre giocatori al crotone Poi Di Francesco 1,72 Anche lui abbastanza bassino E vabbè Pier 1,89 Vidal 1,81 E te Sportiello Te l'ho detto che era alto Quante volte ci vuoi battere? Tre volte? Eh si Mamma mia Mamma mia E il mio secondo Sportiello Ti avrei battuto almeno a te Te l'hai richiamato Simo? No però bella chiamata Complimenti Eh morirò tanto Quindi ultima pacchetta per te Sembra musica Allora Antist 1,83 Dai un Savicciura per Per andare a vincere Questa ciala Oh Però No Dai vai all'ultimo posto Giù Qua musso E se l'altro possibile Tutti io 93 Andavici Mamma mia Tutto assieme Cavolo Quella scamacca Perché a livello di portieri Ti avevo pure battuto Sì Eh sì 92 Beccato al 93 Andanovic Ma scamacca è proprio Un furio Ma scamacca ma Ma perché Il caldo Belotti Quanto è alto? No 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 1,96 Una roba Allucinante Allucinante infatti Cioè penso E veramente Ce ne staranno Non lo trovo uno Che lo batte Se non è Se trovi Il fratello di Savic Quello lì Due metri e due Osimene 1,86 Pensavo sia più alto LR Vicenza Tre giocatori C'è qualcuno 1,90 3 della Roma Ferrari 1,89 Non ci arriva 1,89 E niente ragazzi Tra tutti i portieri Non troppo No Non troppo Tra tutti i portieri Ragazzi Due 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 Quindi pareggio Chiudiamo questa serata Che tra l'altro È la mezza Quindi raga Potete immaginare Le nostre condizioni In totale pareggio Con questo scamacca Era pazzisco Mamma mia Io che pensavo Avessi andato bene Con l'Igo Giannis Challenge molto molto figa Si scoprono un sacco Di caratteristiche Su questi giocatori Ragazzi Iscriveteci qua sotto Nei commenti Se sapete Quale è il giocatore Il più alto di serie A E lasciate un bel mi piace Iscrivetevi Se ancora avete fatto Ci vediamo Nel prossimo video Bella